Il dolore viene visto come una parte naturale dell'amministrazione e quindi non si fa niente, questo può essere molto rischioso come ad esempio nel caso dell'endometriosi viene preso in considerazione. Ci sono sempre reazioni estremamente, o si amano o si amano, o si amano, e molte persone mi sento anche offentata quando ho chiesto, ho chiesto di molte persone nella strada e nel mondo e alcuni mi sono davvero sorpresi, amici, non so come reagire, erano scusate. Ci sono state delle reazioni estreme, se vogliamo, infatti alcuni hanno reagito in maniera molto positiva e altri hanno reagito in maniera molto negativa, alcuni si vergognavano, altri rimanevano sorpresi, alcuni si sentivano quasi offesi, quindi non posso dire che un paese ha adottato una posizione precisa, diciamo che dipende da le visibili. Alcune reti televisivi hanno affermato che non smetteranno mai il mio film, perché si parlava appunto delle mestruazioni, si parla anche di perturbazioni, poi si vanno a vedere, ad esempio nella scena finale, del sangue che cade a terra e in realtà il sangue poi viene anche semplicemente sangue. Sì, non ho voluto fare solamente un film riguardo al dolore mestruale, ma anche capire perché visto in maniera così positiva, in realtà le mestruazioni sono una cosa anzi molto positiva perché alla fine sono collegate alla vita umana e quindi volevo capire perché era percepita come una cosa quasi innaturale e quindi ho iniziato a documentarmi e ho voluto condividere le mie opinioni con il resto di tutti e con gli altri anche per cercare di capire le cose.